Il rivelo delzić L'episodio 11 della nostra carriera colmi Bologna è diverso da tutti gli altri episodi visti che andremo in profondità su un tema molto specifico che normalmente non viene trattato su FM ma che è molto importante così come è un episodio diverso da qualsiasi altro visto nelle carriere che ho portato qui su youtube quello che voglio farvi capire è come interpreto io una serie di statistiche per poter migliorare non solo la tattica che poi vado a elaborare durante il corso delle varie partite ma anche come scegliere poi gli interpreti giusti quali mantenere in rosa, quali mettere sul mercato perché quando abbiamo due schede che magari sono simili una rende più dell'altro su Football Manager esistono una valanga di statistiche il centro dati è stato inserito nelle ultime edizioni del gioco e gli sviluppatori continuano a potenziare qualcosa che molti giocatori neanche utilizzano eppure molte informazioni potrebbero essere molto croccanti per migliorare le vostre prestazioni diciamo che oggi non andremo tanto sul centro dati ma parleremo di statistiche lavagna ovvero quelle che potete andare a vedere andando sia sulla vostra rosa andando sulla personalizzazione di questa schermata inserendo su questo filtro proprio le statistiche lavagna sia anche attendo a fare ricerca quello che vi faccio vedere quest'oggi sarà anche come andare a comprare i giocatori valutando queste statistiche ma di cosa stiamo parlando? stiamo parlando non solo di expected goal non solo di expected assist ma stiamo parlando di magari anche falli effettuati pressing effettuati contrasti vinti duelli aerei tentati parliamo di passaggi decisivi di occasioni create durante i 90 minuti abbiamo statistiche diciamo che lavorano sulle percentuali statistiche che lavorano su valori assoluti statistiche che vengono rapportate ai minuti giocati sono praticamente dati che voi una volta diciamo messi a schermo possono farvi capire se effettivamente il giocatore che voi avete comprato che magari ha anche una bella scheda sta rendendo realmente per quello che è anche il vostro modello tattico perché è chiaro che cambiando il modello tattico si chiede anche situazioni differenti movimenti differenti soluzioni differenti ai vostri giocatori quindi è inutile comprarsi un giocatore che poi è molto bravo se poi non serve effettivamente a come volete giocare voi una volta scelte chiaramente le vostre statistiche per esempio vorrei inserire il passaggio chiave basta selezionarla sulla parte sinistra di questa schermata mettere aggiungi e poi chiaramente la cosa importante è anche ordinare bene queste statistiche perché come vedete sono veramente tante e bisogna anche fare in modo di metterle vicine in modo tale da avere diciamo anche una vicinanza di intenti cioè è inutile che metto una serie di statistiche sui contrasti sparse in mezzo a statistiche che riguardano che ne so il dribbling o il tiro quindi anche a copiarle bene è fondamentale e di cosa sto parlando aggiungere un separatore può essere utile alle volte per avere una situazione più chiara a schermo perché qui siamo pieni di numeri ma poi magari potremo andare un po' in confusione quindi se noi vogliamo aggiungere un separatore come si fa? andiamo su questa colonina a caso in questo momento dei tentativi dei contrasti clicchiamo con il tasso destro del mouse e andiamo a pigiare su aggiungi separatore qui si può decidere se metterlo sulla sinistra di questa colonina sulla destra o su entrambe chiaramente le linee sinistra e destra vediamo come inserirlo per esempio sulla sinistra vedete che adesso sulla sinistra di questa colonina è comparso questo separatore è sempre possibile prendere una statistica come vedete e spostarla sulla sinistra o sulla destra di qualcun altro per andare chiaramente anche a far sì che tutto sia più facilmente leggibile si può anche cliccare su una colonina a caso sempre con il tasto del mouse e andare su ridimensiona automaticamente tutte le colonne così in qualche modo ci rende più visibile in maniera chiara perché le colonine quando le spostate potrebbero diciamo andare a sovrapporsi diciamo una sull'altra potete sempre utilizzare la barretta chiaramente nella zona bassa per andare a visualizzare meglio tutte queste informazioni una volta fatta la vostra scelta di statistiche da visualizzare una volta messe in ordine una volta inseriti anche eventuali separatori cosa dovete fare? dovete salvare questo filetto quindi andiamo accanto a giocatori andiamo su personalizzata e andiamo su esporta la schermata attuale si va a dare un nome chiaramente utile per richiamarlo poi alla memoria dove si andrà a salvare questo contenuto beh nel percorso documenti sport interactive putbo mezzo 1023 e poi cartella view questo è dove andrà materialmente diciamo a finire questo elemento noi andiamo momentaneamente su annula faccio anche vedere come si fa poi a richiamarlo sempre su personalizzata questa volta però si va su importa la schermata in questo caso andando a selezionare per esempio le stats per le ali io vado a caricare tutti quelli che possono essere eventualmente gli elementi utili per valutare bene le ali come vedete qua per esempio c'è un elemento di disturbo c'è un blocco vuoto come al solito tasto di cell mouse andiamo su ridimensione automaticamente e vedete che insomma si risolve tutto l'ambaradana e si vede nettamente meglio facciamo subito una premessa doverosa nel calcio siamo un po' sfortunati rispetto ad altri sport se uno non partecipa anche alle coppe europee va fino in fondo le partite di una stagione non sono tantissime questo perché ve lo dico perché ovviamente quando le partite sono poche i risultati potrebbero essere fuorvianti motivo per cui è ottimo utilizzare queste statistiche io lo faccio prettamente alla fine della stagione o si può fare anche verso la fine della stagione ma se lo fate già all'inizio potreste avere a che fare con valori fuorvianti da valori anomali io per esempio potrei fare la mia avventura in Inghilterra magari gioco con un team che sta appunto in primer ma analizzo le statistiche dopo sette partite magari tra queste sette partite ci sta anche la sfida fatta contro una squadra di sesta divisione in Coppa Nazionale Inglese magari il mio attaccante lì ha fatto sette gol abbiamo vinto 12 a 1 è chiaro che quei sette gol poi analizzati insieme ad altre statistiche potrebbero essere fuorvianti per andare a giudicare l'attaccante magari lui ha fatto sette gol in quella partita nelle altre partite ha arrancato e potrebbe risultare migliore magari di un altro attaccante che magari non ha giocato neanche quella partita di Coppa Nazionale ma ha giocato le altre in premier e mi ha fatto persino meglio quindi mi raccomando andate a valutare le statistiche in questione solo dopo 15-20 partite altrimenti è fuorviante il risultato che si va chiaramente a trarre e mi raccomando quando analizzate tutti i giocatori della vostra rosa è importante che abbiano chiaramente un minutaggio non dico per forza uguale perché è impossibile non dico per forza simile ma rapportate chiaramente tutto quello che andate ad analizzare ai minuti anche giocati quindi non tenete solamente davanti a voi la colonina delle presenze ma anche quella dei minuti perché quello vi dà chiaramente un'idea un po' più chiara io per esempio in questo caso vorrei analizzare il reparto difensivo andiamo quindi a filtrare così molto più chiaro se no abbiamo troppi i giocatori a schermo voglio analizzare semplicemente i giocatori potrei anche diciamo analizzare solamente quelli centrali però al momento lasciamo tutto il reparto difensivo potrei analizzare i tiri bloccati che non è una caratteristica ad esclusivo appannaggio dei portieri sicuramente loro faranno più tiri bloccati essendo appunto i portieri ma anche i difensori possono evitare in tal senso se io vado su questa colonina e vado ad analizzare i tiri bloccati potrei dire che magari un Lukumi che ha fatto 18 tiri bloccati è meglio di un Corbo che ne ha fatto semplicemente 7 il problema è che il Corbo ha fatto 660 minuti Lukumi ha giocato 2200 quindi è più utile sfruttare magari non la caratteristica tiri bloccati in questo caso ma la caratteristica tiri bloccati per 90 minuti quindi viene rapportato il tutto alla partita in questo caso noi abbiamo cosa? abbiamo un Corbo con un valore di 0,95 più alto di quello di Lukumi che 0,74 avete visto che quindi insomma in questo caso è anche importante capire quale statistica andrà controllata quindi abbiate sì magari la colonina dei valori assoluti quelli durante tutta la stagione ma cercate anche di trovare una caratteristica simile che vi analizza diciamo quello stesso grosso dato rapportato ai 90 minuti perché può essere più chiaro chiaramente anche in questo caso dobbiamo tenere presente che comunque non è detto che Corbo sia più bravo a bloccare i tiri magari questo valore è dovuto proprio al fatto che Corbo comunque al solito ha giocato poco magari giocando più partite avrebbe diminuito questa sua tendenza a bloccare i tiri quindi tenete anche in considerazione questo aspetto ecco perché vi dico aspettate sempre la fine della stagione per cominciare a trarre chiaramente le vostre conclusioni a meno che non fate un turnover esasperato e avete più o meno i giocatori che fanno più o meno gli stessi minuti su questo argomento si potrebbe davvero andare in profondità però vorrei evitare che qualcuno magari si spaventasse con tutti questi numeri quindi quello che voglio fare quest'oggi è dargli qualche input poi se chiaramente vedo tanto interesse magari faccio proprio dei video doc sulle statistiche non solo lavagna come in questo caso ma anche quelle del centro dati quello che voglio fare quest'oggi però è lavorare soprattutto sul reparto difensivo quindi ho tolto una serie di variabili a schermo rendo più chiaro il tutto e cerchiamo di fossilizzarci su due elementi in particolare posh e cozza perché sono giocatori borderline per il nostro reparto difensivo potrebbero essere utilizzati tanto come terzini tanto come difensori cittadini anche se sono giocatori un po' differenti tra di loro perché posh mi è alto ovviamente 1,89 m mentre cozza mi è alto appena 1,78 m anche il peso fa la differenza il peso di posh è 82 kg mentre quello di cozza è di 72 kg la struttura atletica di posh quindi è più simile a quella di un difensore centrale mentre quella di cozza è più magari quella che ci aspetterebbe da un terzino andiamo ad analizzare i contrasti qui magari qualcuno potrebbe sorprendersi i terzini tendenzialmente tentano più contrasti rispetto ai difensori centrali ecco perché ha senso mettere il contrasto duro anche sul terzino e non solo sul difensore centrale e in questo caso se noi analizziamo il loro comportamento posh e cozza come difensori centrali potrebbero essere anche considerati positivi per esempio il buon cozza con questo 1,23 qui sono i contrasti rapportati ai 90 minuti così è un dato molto più leggibile come vi dicevo se no se avessimo considerato solamente i contrasti con loro in assoluto poteva essere chiaramente fuorviante perché chi gioca di più chiaramente ha più possibilità di aumentare il numero di cross effettuati quindi questo è un dato più chiaro ora con questo 1,23 ha un valore praticamente doppio rispetto a quello di Corbo andiamo anche a vedere però i contrasti vinti perché qui la situazione cambia no i contrasti vinti sono più quelli dei difensori centrali rispetto a quelli dei laterali anche se devo dire che ci sono situazioni particolari per esempio Lico Yannis che tra l'altro ha un peso 82 kg ed è alto 1,90 m con 12 in colpo di testa non è che si è poi diciamo comportato troppo diversamente rispetto a un Bonifazi per quanto riguarda i contrasti vinti quindi ancora una volta si dà forza di lasciarlo il contrasto almeno su Lico Yannis e su Lelo perché insomma se la cavano abbastanza bene Casius invece ecco su Casius magari si potrebbe anche valutare se tenerlo o meno perché effettivamente il suo apporto nei contrasti è un po' meno efficace ritorniamo però su Poche e su Koz per cui la situazione è veramente drammatica questi non vincono contrasti ed è gravissimo proprio perché hanno fatto alle volte i difensori centrali alle volte i laterali io mi sarei aspettati molto più in alto quindi la situazione qui è abbastanza critica andiamo a valutare altri aspetti qui valutiamo adesso il colpo di testa altro elemento importante di un difensore centrale qui abbiamo tra i colpi di testa tentati in 90 minuti un Poche che si posiziona in maniera ottima per quanto riguarda il dato nel reparto difensivo Koz invece è diciamo positivo come valore solo se lo si rapporta ai difensori laterali ma per quanto riguarda i difensori centrali chiaramente è sotto persino Corbo e questo la dice chiaramente in maniera molto pesante su di lui andiamo a valutare i contrasti ai rivinti in 90 minuti addirittura Poche migliora rispetto a Bonifazi Koz invece risulta ancora il peggiore dei possibili difensori centrali andiamo anche a valutare i colpi di testa decisivi durante l'arco di una partita e qui scopriamo che Corbo crolla per esempio dall'essere stato sempre nei due l'aerei davanti a Koz non risulta decisivo nei suoi colpi di testa però anche qui teniamo presente che potrebbe influire un po' anche i minuti giocati valutiamo anche gli errori che hanno portato eventualmente ai gol dell'avversario e qui si nota come Corbo effettivamente si merita tutti i miei improperi durante appunto le live durante questa carriera perché non solo ha giocato meno e quindi poteva fare meno errori ma ne ha fatti anche più di quelli che hanno giocato notevolmente di più rispetto a lui ha giocato magari quasi un quarto di partite di Kevin Bonifazi e ha fatto il doppio degli errori quindi va tenuto in considerazione diciamo che da questi dati si scopre come Corbo dovrebbe essere messo nel rusco così come anche Cozza in questo momento non risulta molto utile se lo si considera più difensore centrale magari potremmo pensare Cozza potrebbe essere utile come laterale andiamo ad analizzare quindi caratteristiche che sono magari più tipiche di un difensore laterale dribbling ora il dribbling di Cozza non è altissimo e 11 ma neanche quello di Poche è altissimo e addirittura solo 9 andiamo quindi a valutare i dribbling a partita guardate come mettendo sempre da parte Cambiaso i migliori sono quelli dei terzino Lel e Licoiano e soprattutto l'asset di sinistra poi arriva Rosas e Casius come asset di destra poi se analizziamo però il discorso dei cross tentati in 90 minuti guardate come Cozza è 0,92 e Poche invece 3,13 quindi diciamo che perlomeno è molto più propositivo Poche come terzino rispetto a Cozza valutiamo il confronto tra i cross tentati e quelli riusciti e anche in questo caso anche se di poco Poche risulta migliore di Cozza quindi cosa possiamo dire fino adesso di questi risultati che Cozza non è buono né come difensore centrale né come terzino quindi andrebbe messo sul mercato e è quello che faremo proveremo insomma a venderlo perché evidentemente non si è distinto in nessuno dei ruoli che possiamo utilizzare dato il nostro modulo ovvero il 4-4-2 Wenger che utilizza il signor Beppe e signori analizziamo anche un altro aspetto però abbiamo detto che effettuano diversi contrasti i terzini però attenzione perché se poi analizziamo il possesso palla perso nei 90 minuti i terzini sono anche quelli che perdono più palloni però attenzione perché sono anche quelli che recuperano più palloni di solito se noi andiamo a vedere le intercettazioni 5.26 rapportate sempre in 90 minuti per Lico Yannis Lico Yannis è davvero un buon terzino da quello che abbiamo visto fino ad oggi giocatore che sa colpire anche di testa buona struttura fisica non è molto distante neanche dai migliori difensori centrali per tentativo dei contrasti e qui addirittura si distingue anche per intercettazioni quindi diciamo che il terzino recupera palla ma perde anche palla questo cosa potrebbe anche dirci se valutiamo anche ancora una volta il dreaming nei 90 minuti che siccome fanno tanti dreaming ma possono anche rischiare di perdere palla si potrebbe anche dato questo engine magari togliere il dribbla di più per quanto riguarda il terzino modificante quindi potremmo andare qua e magari tentare di provare a vedere cosa accade se togliamo a questi ragazzi il dribbla di più perché questo quello che ci dice appunto le stunts è che loro tendono a perdere più volte palla cosa vuol dire che magari il dribbling andando a far sì che il giocatore trattenga di più il pallone per effettuare il dribbling possa appunto perdendo la contesa del dribbling avviare diciamo un'azione poi offensiva dell'avversario andiamo a vedere il centro dati andiamo a vedere la nostra squadra e andiamo a vedere dove perdiamo maggiormente il pallone a parte nella metà campo avversario nella nostra metà campo noi lo perdiamo attenzione nell'11% qui nella zona bassa quindi quello che noi dobbiamo fare è magari proprio provare a dribblare di meno ma su questo aspetto ci ritorneremo perché è un dato comunque non chiarissimo perché è una sensazione mettendo avanti mettendo insieme più elementi è un discorso che dovremmo ancora portare avanti ma c'è un elemento che invece mi ha completamente colpito ed è il quantitativo di palloni giocati di difensori centrali guardiamo quest'altro dato vi ho messo a schermo non solo i difensori in questo momento ma anche i cirocampisti offensivi i cirocampisti generale e anche gli attaccanti guardate la colonia dei passaggi tentati sono soprattutto tentati da Bonifazi e da Lucumì uno si aspetterebbe magari più fraseggio dai cirocampisti invece qua abbiamo i difensori centrali che toccano forse anche troppi palloni considerato questo engine soprattutto che porta a maggiori errori proprio nel reparto difensivo abbiamo anche visto che nonostante la difesa sia standard da noi e non alta un 11% di palloni lo perdiamo proprio in basso nella fase difensiva quello che vorrei fare con voi infatti sarà provare in questa seconda stagione a togliere questo partire palla a terra dalla difesa quindi il modulo quest'anno si cambierà e si andrà a togliere la palla a terra dalla difesa sul contrasto quindi lo andremo a mantenere perché era chiaramente un elemento diciamo anche di discussione ma su questo aspetto vorrei farvi vedere anche un altro dato tra un po' e per quanto riguarda invece il dribbio di più per il momento sono ancora titubante però quello che mi dicono i dati è che potrebbe essere sensato ripeto togliere il dribbio di più approfondiamo però la questione disciplinare per capire anche il perché arrivano determinati cartellini in certe zone di campo i giocatori con più cartellini sono Musabarov e Orsolini 11 cartellini a testa però attenzione perché sono anche quelli che fanno più falli 69 Musabarov 51 Orsolini guardate come tra l'altro non ci sono dubbi sul discorso del mettere il contrasto duro sulle punte 50 falli per Joshua 48 per Stelec eppure sono beccati solamente 4 e 2 cartellini gialli non solo visivamente vi rendete conto come gli attaccanti quando aggrediscono i difendenti magari quelli si bloccano perdono palla e gli stradi vengono facilmente quindi ha senso mettere il contrasto sulle punte anche se non sono bravissime guardate come Joshua abbia 7 in contrasti e Stelec abbia 6 in contrasti questa appunto è la colonnina dei contrasti quindi come vedete ha senso perché l'attaccata è molto efficace nel discorso di recupero la pallone ecco perché quando vi dico non ha senso andare diciamo nelle istruzioni dei giocatori e farsi il calcolo ma sto ragazzo quanto c'ha in contrasti 15 allora glielo metto c'ha 3 in contrasti l'attaccata allora non glielo metto perché non ha senso è sbagliato valutare il contrasto più duro sull'attaccante come se fosse il difensore centrale è chiaro che il difensore centrale deve essere più bravo nel contrastare per attivare quella funzione ma bisogna anche ragionare ripeto sulla posizione strategica anche in base ovviamente all'engine questo è un engine che vi garantisce di recuperare più facilmente il pallone con gli attaccanti perché i difensori si bloccano o perché appunto non va a penalizzare molto il contrasto non troppo efficace delle punte andiamo ad analizzare però anche altri aspetti ritorniamo alle ammunizioni valutiamo come effettivamente sulle fasce se ne beccano veramente tante di Coyannis 9 fa il terzino sinistro su discorso anche l'elo 7 poi abbiamo anche che ne so un Casius con 8 qui non conta molto il fattore aggressività perché se voi non fate caso l'aggressività di Casius è 14 quella di Coyannis è 15 è un solo punto in più quindi sicuramente l'aggressività molto alta può portare magari a un contrasto maggiore anche il coraggio potrebbe andare a inificiare questo valutiamo anche la colonia del coraggio ho dunque aggiunto la colonia del coraggio come vedete la differenza tra di Coyannis di Coyannis 14 e l'elo 15 non spiega diciamo il perché questi ragazzi magari abbiano un numero differente di carte non è che sono molto distanti è 9 per Coyannis 7 per l'elo 8 per Casius semplicemente tendenzialmente si prendono più cartini nella zona del campo se si aggiungono i contrasti ma ci sta perché appunto è una zona molto pericosa cosa vuol dire chiaramente il coraggio perché ho messo il coraggio il coraggio porta il giocatore a entrare maggiormente magari in contrasto con un suo diretto avversario incurante della propria magari salute quindi ci sta che magari un coraggio molto alto tendenzialmente porti a determinati interventi ma ripeto il discorso dei cartellini è dovuto al fatto che se metti il contrasto duro lateralmente puoi rischiare un po' di più ma ci sta perché è una zona un po' più diciamo delicata visto che vi puntano sicuramente di più nel calcio moderno si punta maggiormente l'avversario e nei mezzi spazi e nella zona del campo dove ci sono giocatori magari dal baricentro basso molto abili nel dribbling che possono mettere in difficoltà il diretto difendente dove per difendere non si intende difensore ma giocatore che difende quindi può essere sia il terzino sia l'ala invertita quando devono ripiegare quindi semplicemente è spiegabile con questo ma ritornando indietro quello che sicuramente risulta chiaro è che si viene puniti maggiormente se si è terzini perché dico questo se noi andiamo sui falli guardate come Musabarov e Rossellini fanno tanti più falli rispetto a un Likoyanis che si ferma a 33 falli quindi 33 falli la metà di Musabarov quasi le stesse ammunizioni quindi qui potrebbe anche entrare in gioco un altro fattore la fallosità però noi non abbiamo chiaramente l'editor attivo per andare a valutare la fallosità che è un valore nascosto potrebbe però spiegare perché Likoyanis magari ha preso più gialli dei suoi compagni dove potrebbe entrare la fallosità però in questo contesto su Dominguez Dominguez ha preso 9 ammunizioni ha fatto 47 falli se poi analizziamo invece Moro Moro ha fatto 47 falli gli stessi Dominguez ma 3 cartellini in meno ora 3 cartellini sono tanti in meno rispetto a 9 non è un discorso di Likoyanis Casus che più o meno siamo lì per quanto riguarda l'aggressività Dominguez ha 14 e 15 in coraggio 13 Moro 12 per quanto riguarda il coraggio 13 in coraggio sicuramente anche qui c'è una tendenza a essere più predisposto magari a entrare in scivolato in contrasto il signor Dominguez però probabilmente qui potrebbe essere proprio la fallosità quindi cosa possiamo fare in questo caso per limitare questo Dominguez che è un po' troppo effervescente è un po' troppo passionale potremmo andare quando mettiamo chiaramente l'11 in campo migliore potremmo in questo caso su Dominguez andare su personalizzate e andare a togliere il discorso del contrasto duro in questo modo quando ci sarà Dominguez lui non farà mai il contrasto duro quando magari qui ci gioca che ne so uno shoten visto che qua ci stava Moro quando ci giocherà uno shoten vedete che il contrasto duro si riattiverà quindi diciamo che noi facciamo proprio una discussione diversa quando ci sta Dominguez perché è l'unico che ha questa tendenza tra gli altri campisti centrali a beccarsi così tanti gialli quindi ricapitolando sul discorso delle ammunizioni valutate se ne vale veramente la pena di tenere i contrasti duro il laterale perché come vi ho detto è più rischioso cercate di evitare delle combo pericolose come per esempio andare a mettere non solo il contrasto ma anche la marcatura ma soprattutto per cosa riguarda il giocatore sulla fascia questo perché perché la marcatura ovviamente è solo più vicina al tuo avversario se più tendente magari poi a fare il passo in più e fare l'intervento questo diciamo sarebbe il problema di una possibile le ammunizioni in più l'altro discorso sul reparto difensivo chiaramente questa è un'altra tendenza che va sicuramente sempre ricordata maggiormente la difesa è larga più facilmente si beccano i gialli però non è questo il caso perché non abbiamo fatto nulla per allargare maggiormente la difesa è chiaro non c'è più il parametro ampiezza difensiva però abbiamo la possibilità non solo di utilizzare la trappa del pressing per allargare diciamo la nostra difesa ma soprattutto diciamo quella di contrastare i cross quando attiviamo questa questa opzione che può essere utile per bloccare magari squadre che vogliono sfruttare tantissime cross come che ne so moduli 3-5-2 però attenzione quando andate a utilizzare il contraste cross fate anche allargare i terzini quindi almeno in quel caso potrebbe essere anche sensato magari solo in quel caso andare a togliere il contrasto duro sui terzini ed è così che noi agiremo quest'anno quindi quando andremo quest'anno a affrontare un 3-5-2 contrastando anche cross quello che noi andremo a fare sarà proprio togliere il contrasto duro sul terzino quindi lo andremo a togliere solamente in quel caso specifico potrei maggiormente discutere di questo argomento e spiegarvi anche ulteriori statistiche intriganti per i giocampisti per il reparto d'attacco e compagnia bella se vado qui infatti a importare le schermate abbiamo anche dei filtri sulle statistiche delle ali dei cc però ho paura di annoiare magari qualcuno e queste cose non interessano quindi magari fatemi sapere se volete appunto approfondimenti ulteriori anche con il centro dati che anche lì vorrei diciamo fare un ulteriore diciamo tra virgolette capitolo extra per il Bologna però magari se volete fare una guida a parte per chi magari vuole andare ancora più in profondità si potrebbe anche fare sta di fatto che per farla breve sul mercato cosa ci finirà maggiormente ci mettiamo anche Ebischer e Schotten perché sono cerocampisti che non sono stati abili nel recupero del pallone avete visto che diciamo i nostri cerocampisti non sono tendenzialmente dei goliador perché noi sfruttiamo la zona laterale del campo quindi sfruttiamo soprattutto le ali e terzini purificanti quindi ho pensato di metterli sul mercato proprio perché non ci hanno aiutato nel recupero del pallone un mercato dovrebbe andarci anche Vignato perché non si è distinto diciamo in zona golla e diciamo è scarso anche nei tiri in porta come numero di tiri in porta anche come grado di pericolosità con l'XG e dovrebbe andarci tra virgolette anche diciamo Rosas vi dico già che si è fatto poi un sondaggio in chat e Vignato è stato in qualche modo salvato dalla chat quindi ci andrà sul mercato semplicemente Koza Ebisher e Schoten e Rosas lo voglio in qualche modo difendere io perché ripeto è ancora giovane ci vorrei ancora puntare per capire insomma se ne vale la pena sta di fatto che adesso facciamo un salto in avanti e vediamo effettivamente il mercato che sono portato avanti dal DS partiamo dalle cessioni siamo ancora nella stagione 22-23 come bilancio solamente perché il mercato francese è partito prima e quindi diciamo Schoten è stato effettivamente venduto il 21 di giugno quindi per la stagione 2 anche se viene messo a bilancio nella stagione precedente quasi 10 milioni col paccio questo qui del DS andiamo al bilancio successivo incassiamo dunque ulteriori 13 milioni che insieme ai 970 più o meno fanno 23 milioni incassati abbiamo anche venduto purtroppo l'Ikoianis non per volere mio lo ha venduto il DS non me la sono sentita di bloccarlo perché abbiamo tre strike se mi metto a bloccare diciamo anche per le riserve finisce che poi salta subito Beppe Signori Skorupski invece è colpa vostra tra virgolette perché avete votato su Instagram diciamo lui come il peggiore della scorsa stagione quindi andava messo sul mercato il migliore invece che avete premiato e vorrei sapere veramente perché avete dato l'immunità a Bardi che quindi è stato persino rinnovato come promesso quello che veniva votato maggiormente come il migliore sarebbe stato addirittura rinnovato e così Bardi resterà ancora un pilastro delle riserve delle Bologna poi ci sono alcuni giovani che sono stati mandati via anche qua mi dispiace più per Camille Momon non è che avesse una scheda stratosferica ma devo dire che le stats erano veramente spaventose in termini di tiri e gol effettuati sottoporta era veramente imicidale quindi l'avrei voluto vedere anche in squadra B quest'anno in serie B con il Bologna B però purtroppo il DS me l'ha venduto anche per poche lire per quanto riguarda invece gli acquisti abbiamo speso 28 milioni e mezzo abbiamo comprato largi Ramazzani dall'Almeria per 7,25 vi faccio anche vedere brevemente appunto la sua la sua scheda è un giocatore che aveva una clasola di 20 milioni ma l'abbiamo preso per una città più bassa vale già molto di più arriva anche Sivert Manswerk questo è decisamente un gran bel colpo guardate il valore del giocatore 39,53 milioni pagato veramente una cifra irrisore si fa veramente tanto mercato dalla Scandinavia quest'anno si trovano veramente colpi incredibili vi invito a mandare osservatori in quella zona del globo terraco perché farete un sacco di affari tra giocatori che hanno clausole molto basse per squadre estere tra giocatori che hanno anche clausole molto basse per chi è nelle coppe europee e tra giocatori che semplicemente vogliono andare via e accettano o premono insomma per essere venduti a prezzi molto basi Team Prika lo sapevate già perché ne abbiamo già parlato in precedenza sarà appunto la punta titolare mentre sia Sivert sia Largi partono come riserve dopodiché abbiamo Labrovic che partirà come portiere titolare questo ve lo faccio vedere col patch incredibile l'abbiamo anche qui osservato tutti i giocatori che abbiamo comprato li abbiamo tutti osservati chiaramente prima di poterli acquistare questo non vale tantissimo come magari un cartellino però attenzione a una scheda migliore di quella di Ignachi Pegna che è il portiere che aveva comprato se vi ricorderete da sé il direttore sportivo per fatti suoi l'anno scorso per questa stagione ma io appena l'ho visto ho detto questo deve essere assolutamente il nostro portiere il report degli osservatori è stato decisamente interessante quindi ne abbiamo approfittato questo attenzione è un'autentica sorpresa quest'anno questo Emanuele Valeri devo dire che è una scheda veramente fantastica tanti altri elementi sono invece stati comprati per la squadra B circa 8 milioni investiti proprio per far sì che in B non si vada in difficoltà e magari non si lotti per non retrocedere quindi abbiamo il signor Coombeidi preso da Lione prospetto interessantissimo 18 anni terzino pudificante di destra poi Trilli questo immagino lo conosciate il giocatore del Depor anche questo è molto interessante ma contrattino già un tantino atto così tanto che giocherà in serie B poi Michut altro elemento interessantissimo che vi straconsiglio anche qua 20 anni e uno stipendio abbastanza importante speriamo si distingua per poi portarlo ovviamente in squadra A Jonathan preso dalla Propatria 19 anni francese diciamo che qui è più una scommessa perché vedo una scheda molto grezza però era interessante poi Copado giocatore tedesco ambidestro questo devo dire sembra veramente croccante anche soprattutto in base al prezzo già vale circa 6 sbarra 8 se ne ha fatto manco una partita ed era già un giocatore tedesco non è che era un giocatore di un paese strambo che giustamente poteva arrivando a te costare di più l'abbiamo privato dal Bayer 2 speriamo insomma che non ci hanno rifilato un pacco ovviamente le statistiche lavagna possono essere utilizzate non solo per giudicare i vostri giocatori non solo per cambiare alcuni elementi della vostra tattica ma anche per acquistare nuovi giocatori ed è così che abbiamo fatto per individuare qualche elemento da indicare al nostro direttore sportivo in questo caso vi faccio vedere alcuni elementi intriganti qui abbiamo a che fare con Ramazzani e Valeri qui cosa ho fatto sono andato su osservatori lista selezionati ho messo nella lista ovviamente alcuni elementi li ho filtrati in questo caso con alcuni parametri in questa ricerca e qui sono andato su personalizzata personalizzata attuale e ho inserito non solo alcune caratteristiche diciamo che mi interessano per giocatori della fascia come accelerazione agilità velocità e dribbling ma ho anche valutato alcune caratteristiche alcune statistiche lavagna ho messo non solo le presenze e i minuti giocati così si capisce bene se queste presenze diciamo sono effettivamente dovute a tanti minuti giocati o a pochi minuti giocati magari subentranti ma abbiamo anche un valore sul dribbling entro i 90 minuti a partita in sostanza quindi entrambi hanno un dribbling superiore a 2 entrambi hanno uno scatto attivo superiore al 9 per il gioco di fascia è una caratteristica decisamente importante qua abbiamo anche il discorso dei passaggi chiave nei 90 minuti entrambi intorno ai 50 insomma non è bruttissimo come dato qui abbiamo anche il confronto tra i cross tentati e riusciti anche qua superiore al 10 diciamo abbiamo un minimo sindacale poi dipende anche come sono stati utilizzati però questi giocatori perché ovviamente Ramazzani qui poteva avere anche magari un valore più alto però bisogna capire andando proprio a valutare la sua squadra come è stato impiegato perché magari è stato impiegato in un contesto in cui magari poteva fare meno cross questo è importante quindi anche analizzare la squadra dove provengono questi giocatori un altro parametro che vi consiglio di mettere sempre a precedere che voi vogliate o meno utilizzare le qualità ovviamente statistiche lavagna e quello della cifra minima per rescissione perché magari se andate ad aggiungere questo parametro che sia proprio così che trovate appunto non solo qui ma che potete anche inserire chiaramente altrove vi permetterà insomma di visualizzare subito davanti ai vostri occhi i giocatori che sono diciamo caratterizzati da rescissioni abbastanza bassa non è questo il caso perché vedi due sono davvero tanti come si fa qui da visualizzare le statistiche lavagna? beh se chiaramente volete aggiungere nel vostro filtro qua si fa esattamente come si faceva nella rossa no? si fa su personalizzata personalizzazione attuale e sulla sinistra si prendono e si mettono sulla destra qui c'è sempre il filtro con statistiche lavagna un'altra cosa che potete fare è proprio andare a mettere come parametro di ricerca quindi non solamente come elemento da visualizzare a schermo io vado per esempio su ricerca giocatori dopodiché vado su modifica la ricerca qui potrei andare su aggiungi criterio andare in questo caso su statistiche lavagna e qui abbiamo statistiche diciamo già pre-ragruppate per quanto riguarda il colpo di testa per quanto riguarda i contrasti e le intercettazioni per quanto riguarda i crossi sono le stesse statistiche lavagna che voi trovate nelle schermate viste in precedenza che sono state qui raggruppate diciamo per potervi agevolare nell'inserimento di questi valori quindi mi raccomando reparto per reparto cercatevi dei filtri che vi possono aiutare per agevolarvi nella discussione non solo della qualità dei vostri interpreti ma anche per la ricerca se volete poi vi posso girare anche i filtri che utilizziamo noi fatemelo sapere nei commenti se siete particolarmente interessate a questo argomento è un po' una diciamo video particolare questo del Bologna non so ripeto a quanti sarà diciamo piaciuto a quanto interesse avrà suscitato è un po' diciamo un video speciale poi dal prossimo video in poi ripartiamo chiaramente con le partite ripartiamo con la stagione chiaramente due e ci sarà veramente una difficilissima avventura che partirà con subito tre big match pazzeschi e ci sarà anche la partita di Champions quindi se siete particolarmente interessati solo alle partite non vi preoccupate arriveranno chiaramente dal prossimo episodio insomma fatemi sapere cosa diciamo ha suscitato in voi questo episodio del Bologna per la seconda non vi preoccupare